Il nocera soccer di Peppe D'Auria sul gradino più alto della Coppa Campana hanno vinto la finale della categoria giovanissimi fascia B, ragazzi nati tra il 2004 e il 2005. Il torneo organizzato dalla FGC Campania è riservato a tutte le compagini iscritte al torneo regionale. 11 i gironi iniziali, il nocera soccer si è qualificato anche grazie al miglior punteggio fair play ottenuto durante la regular season. Poi la fase ad eliminazione diretta, con il successo negli ottavi contro i fratelli Lodi, con gol di Simone Senatore e Battipaglia. Ai quarti vittoria contro il Marra, ai rigori dove il capitano e portiere Trotta è stato superlativo. In semifinale vittoria contro l'oratorio Don Guanella di Scampia per 2-0 con i gol di Maiorino e Dentale. Le gare in Casalinga si sono tutte disputate a Pucciano di nocera superiore. La finale invece è da disputarsi in campo neutro a Casamarciano, con tanta emozione per i giovani calciatori. Contro la scuola calcio ok, ancora un risultato all'inglese 2-0 con i gol di Dentale e Colella. È la prima volta che una squadra dell'agro si aggiudica la Coppa Campana per questa categoria. Solitamente a farla da padrona sono i team napoletani. Tra l'altro è stata un'annata importante per le numerose squadre giovani del nostro territorio che hanno ottenuto grandi risultati, dal Castel San Giorgio alla Rocchese, dal San Vincenzo Scafati ad altre realtà che si sono messe in mostra proprio come il Nocera Soccer.